Oroscopo di sabato 12 novembre 2016. Ariete. In amore le parole non servono, vi basta uno sguardo per dare vita a fiumi di emozioni. Amici single, la fortuna sarà tutta dalla vostra parte in questa giornata. Approfittatene per arrivare al dunque se state corteggiando qualcuno, o per fare le vostre avancesa alla persona che vi piace. Toro. 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 Oggi qualche piccola discussione non riuscirà ad intaccare la forza del vostro legame. Questo non significa che potete abbassare la guardia. Mantenere viva la fiamma dellamore deve essere sempre una vostra priorità. Amici single. Chi la fa laspetti? Contenete il vostro egoismo, la persona con cui flirtate vi ama davvero e non merita di essere illusa. Un evento inatteso potrebbe farvi rimanere vittime della vostra stessa arroganza. Acquario. Nel vostro rapporto di coppia oggi si alterneranno momenti movimentati ad altri di tranquillo relax vissuti accanto al partner. In amore sarete molto esigenti ma anche disponibili ad esaudire i desideri della vostra metà. Se siete single, si renderà indispensabile un cambio di obiettivo nella vostra vita sentimentale. Dovete accettare il rifiuto del vostro corteggiamento. Se quella persona non condivide i vostri sentimenti sarebbe solo una perdita di tempo continuare a sperare. Pesci. Se vivete in coppia, la situazione che state portando avanti renderà movimentata questa giornata. Gli impegni di lavoro vi terranno separati e solo a sera riuscirete a ritagliarvi un momento di intimità. Amici single, è tempo di uscire dal mondo fatato dei sogni in cui vi piace rintanarvi. L'interesse che una persona vi manifesterà non è solo una vostra sensazione ma la pura realtà. Agite ora, le stelle sono con voi. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.